bevete più latte, vi ricordate? Chi ha una certa età se la ricorderà. Nell'intervallo ho mangiato una di queste, questa è fondente, quella che ho mangiato in intervallo era latte, e per fortuna è servita a darci tre punti. Allora, una partita orribile, veramente, una partita veramente brutta, brutta, infinita, quando c'è stato il direttore di gara che ha dato un minuto in più volevo uccidermi, volevo suicidarmi, volevo prendere il collo dalla Nina, perché non se ne poteva più. Però, però, abbiamo vinto. In mezzo a un mare di errori tecnici, in mezzo a un mare di facce poco convinte, in mezzo a un mare di grigiore che ha contraddistinto questa partita, ci siamo portati a casa tre punti. L'abbiamo fatto perché c'è stata l'invenzione di Benasser e il taglio vincente di Pulisic, l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto la fortuna nel primo tempo di non subire gol e nel secondo di affrontare la peggior squadra dei secondi tempi del campionato italiano, un campionato italiano davvero modesto. Qualcuno tempo fa mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto sorridere perché mi ha scritto un lungo paneggirico, dicendo che quando viene a vedere il post partita si aspetta che io gli racconti la partita, quindi che gli faccia la cronaca della gara, non che dia un mio commento. E ho finito, cioè la partita è stata quella roba lì, è stato il gol di Pulisic fondamentalmente. Un primo tempo orribile, un secondo tempo orribile ma col gol, questa è stata la differenza sostanzialmente tra i due tempi perché poi alla fine non è che sia cambiata molto la solfa. Un brutto Milan che però sfrutta la bontà di alcuni giocatori e sfrutta, come dicevo prima, un torneo che guai a non vederci finire nelle prime quattro insomma perché davvero il livello è molto basso e mi spiace dirlo perché io sono un difensore del campionato nostrano ma il livello quest'anno davvero mi ha visto delle squadre anche contro di noi che hanno perso delle partite che magari in altri anni non sarebbero finite così. Quindi da questo punto di vista noi siamo stati in gamba nel cogliere punti preziosi in partite che magari in altri tempi sarebbe stato più difficile vincere, commettiamola così. Penso a quella col Verona in casa, quella con la Fiorentina, quella di stasera, insomma tutte partite che potevano, tutte partite mezzo e mezzo che sono andate dalla nostra parte per bontà nostra e inferiorità a loro. Il primo tempo è stato veramente un qualcosa che faceva persino sorridere nel nervoso che ha generato perché questo 5-0-5 di un allenatore che ormai ha finito e quindi al di là dei risultati, al di là di tutto vedete perché si cerca sempre, innanzitutto di darsi un po' di carica, si cerca sempre di guardare un pelino più in là della partita. Noi questa sera, è chiaro, possiamo sorridere perché chiudiamo l'anno con una vittoria, perché guadagniamo dei punti su avversari per i primi quattro posti e quindi da questo punto di vista è importante salvaguardare l'obiettivo minimo nostro, i nostri tifosi di questa stagione, cioè ritornare in Champions League l'anno prossimo. Ma guardando pelin più in là mi sento di ribadire le solite cose, le solite cose, cioè io vedo veramente un allenatore che ormai non sa più che pesci pigliare e che cerca di trovare delle soluzioni per mescolare un po' le carte di una squadra che probabilmente non crede più nell'annata e può capitare perché insomma quando a meno di metà stagione o all'incirca metà stagione hai perso i tuoi obiettivi fondamentalmente ritrovare poi gli stimoli, l'energia, l'allegria, la grinta, la voglia e diventa complicato anche se poi la retorica sarà quella dei miliardari che guadagnano tanto e che quindi devono dare sempre il massimo ma sono pur sempre esseri umani ed essendo esseri umani si ritrovano nella stessa situazione in cui ci ritroviamo noi, cioè diciamoci la verità. Di fare bene, di provare a fare bene il loro lavoro, poi se riesce è buono, se non riesce è la stessa cosa e portare comunque a casa un risultato perché al di là di tutto insomma noi questa sera abbiamo vinto una partita che adesso vado a vedere la classifica così lo vediamo subito in tempo reale, è una partita che comunque ci porta 36 punti, no? Che in proiezione fa 72 ed è insomma un risultato che ci dovrebbe garantire senza alcun problema di essere nelle prime quattro anche perché in questo momento il Bologna ha meno 5 e quindi in attesa della Roma che potrebbe però salire a 31 quindi comunque andremo a più 5 e ci restiamo ecco. Perciò credo che al di là di tutto insomma si sia in linea col minimo però quello che abbiamo visto nel primo tempo secondo me è veramente qualcosa di orrendo, qualcosa di orrendo è un continuare attraverso questi micro risultati tra un po' io vi faccio questo pronostico ma tra un po' torneremo ai micro blocchi di Gagliani cioè dalla quinta alla nona noi abbiamo fatto più punti di quelli che hanno fatto i dalla, ve la ricordate no? Quella Solfari, torneremo un po' lì perché poi alla fine qui si va avanti di giornata in giornata. Voglio ribadire per chi non avesse sentito il mio video nell'intervallo, la diretta in intervallo, voglio ribadire il concetto che il nostro amministratore delegato Furlani prima della partita ha detto una sacrosanta verità che voglio leggere i testuali parole così non vi racconto niente, dice Pioli noi siamo tutti compatti, c'è chi se la prende solo con Pioli ma non è giusto. Perfettamente ragione. E quindi niente, continuiamo così allegramente a guardarci questo 5-0-5 per andare un attimo nel dettaglio della partita. La nostra fortuna è stata fondamentalmente che il centrocampo del Sassuolo è stato veramente qualcosa di poco, nonostante questo anche da un punto di vista fisico qualche volta hanno avuto la meglio ma da un punto di vista di qualità insomma il loro gioco è stato principalmente un Berardi che raccoglieva e cercava di collegare un po' l'azione offensiva ma sinceramente con un Pinamonti lasciato là, con una pressione che non è stata fatta e anche se devo dire la verità nei momenti in cui il Sassuolo cercava di fare un minimo di pressione un pelino di difficoltà ce l'ha anche messa perché è chiaro noi siamo una squadra che emotivamente è instabile quindi può accadere ecco che magari l'errore possa condizionare un'intera partita ma la nostra fortuna è stata questa cioè il fatto di aver potuto presentare una squadra totalmente insensata nella sua disposizione in campo, per il resto sapete già come la penso, con 5-0-5 cioè proprio centrocampo niente oltretutto con la strana idea di mettere uno di quelli che avrebbero più qualità di incursore cioè Reinders a fare il regista dietro a 60 metri dalla porta avversaria di mettere l'immobile Lostrucic a camminare e poi metterli tutti schiacciati sulla linea del Sassuolo che è la squadra che fa più fuorigioco, che raccoglie più fuorigioco degli avversari nelle partite quindi tutto questo cosa ha creato? Niente, ha creato semplicemente una squadra inattesa e una squadra schiacciata sulla linea difensiva, pochissime occasioni da gol per noi, qualche isolata azione di Leao, ovviamente il gol di Pulisi che è l'occasione per ciò può essere nel finale, ma nel complesso ecco noi non abbiamo neanche, anche nel secondo tempo noi abbiamo rinunciato di fatto per paura che potesse accadere quello che per fortuna non è accaduto, abbiamo rinunciato ad attaccare, cioè ci siamo, abbiamo arretrato, abbiamo fatto qualche contropiede non gestito benissimo e siamo sopravvissuti a questa partita, siamo sopravvissuti, ecco in questo momento il Milan è una fase di sopravvivenza, stanno sopravvivendo i dirigenti rispetto al lavoro fatto, stanno sopravvivendo i giocatori, bontà loro, rispetto a un allenatore che ormai come dire è Montella e sta sopravvivendo Montella, cioè Pioli l'allenatore, e sta sopravvivendo l'allenatore attraverso questi micro risultati che continuano a tenerlo sulla nostra panchina anche perché non c'è la volontà di cambiarlo, forse anche ha ragione, nel senso che comunque siccome di Riffo dirà il risultato arriva, beh a questo punto si tiene l'allenatore, cioè non è che noi adesso abbiamo perso perché poi bisogna fare anche questo conto, è vero, a Salerno abbiamo pareggiato, però comunque le partite che dovevamo vincere in questo, e non lo faccio io, in questo mini blocco le partite che dovevamo vincere le abbiamo vinte perché vado a vedere le partite tutto sommato, insomma abbiamo vinto in casa con la Fiorentina, abbiamo vinto in casa col Frosinone, abbiamo vinto in casa col Monza, abbiamo vinto in casa col Sassuolo, ecco adesso insomma ci sono i risultati, sì è vero, poi abbiamo perso a Bergamo, abbiamo pareggiato a Salerno, ma i risultati in casa comunque c'è stata la retrocessione che per loro però è una qualificazione all'Europa League e tutto sommato siamo noi il problema, non lui, no capite cosa intendo dire? Ora c'è la Coppa Italia martedì, partita importante visto che la Coppa Italia apre poi insomma uno scenario che senza il Napoli e senza l'Inter comincia a farsi un po' gustoso, poi andiamo ad Empoli domenica e poi domenica 14 gennaio abbiamo un bel Milan-Roma in casa che l'anno scorso fu l'inizio della fine della stagione o comunque diciamo del declino del Pioli-Milan e chissà quest'anno che cosa succederà. Comunque sta di fatto che chiudiamo questo 2023 del quale magari parleremo un attimo domani, lo chiudiamo con una vittoria brutta, sporca e cattiva contro un avversario modesto anche da un punto di vista offensivo, insomma tante scelte sbagliate anche da parte loro, non solo da parte nostra e la sensazione che comunque insomma si navighi davvero a vista. Per ora va bene, è chiaro che non posso non sorridere quando Milan vince, è chiaro che sono contento, però mi rendo anche conto e credo anche voi insomma che le prospettive non siano proprio più rose. Poi dopo vedremo perché magari recupereremo un po' di infortunati, rimetteremo a posto la difesa. È chiaro Benasser se ne va in Coppa d'Africa e questo è un grosso problema perché stava anche oggi ha deciso lui con Pulisic la partita ed è stato il migliore del Milan a Benasser senza ombra di dubbio, però vedremo, vedremo che cosa succede. Bene l'esordio di Zeroli, sono contento quando un ragazzo fa bene l'ingresso di Simic che magari poteva anche giocare dall'inizio ma anche no, quindi bene quando un ragazzo della primavera fa il suo esordio in Serie A e per il resto niente. Come dicevo, chiudiamo comunque con un sorriso questo 2023 e auguriamoci che il prossimo anno possa essere un anno di, insomma, di salvare, di salvataggio, di salvataggio. Non si pretende niente, un anno di salvataggio. Portiamoci a casa e poi rimettiamo a posto le cose e poi vediamo se succedono altre cose positive, insomma, anche al di fuori del campo. Quindi nel frattempo, dai, così. Io vi augurerò domani un buon anno. Domani alle 17 in diretta con Talk, 366-111-2964, il numero di telefono per i vostri vocali, Whatsapp, il numero Whatsapp che vi ho appena detto. Potete votare i giocatori del Milan su rinaldomorelli.it. Grazie a tutti e buona serata.